Bene, continua la carrellata dei nostri illustri premiati, un premio per chi promuove costantemente, Gian Piero Leo, il dialogo interreligioso. Non è semplice, abbiamo sentito dalle sue parole che sono momenti a volte da superare, non semplicissimi. Lei però è impegnato in prima linea, che cosa la spinge? Quali sono le motivazioni che la portano con determinazione a portare avanti questo prezioso contributo per la società? Grazie intanto per questa meravigliosa iniziativa di bene e che fa tanto bene all'opinione pubblica e a tutti noi. Mi spinge, a parte gli ideali che ovviamente e veramente ci sono, la consapevolezza che o c'è il dialogo tra le comunità e le religioni sono un'interprete robusta di molte comunità o c'è la guerra e l'odio. Non c'è una terza via, per cui il dialogo è obbligatorio ma è anche benvenuto, è anche auspicabile e noi lavoriamo per un dialogo intelligente. Mi spiego, il nostro impegno si svolge su un piano sociale vero e proprio, cioè aiuti concreti, ricostruzione di villaggi, derrati alimentari, medicine, sempre in maniera rigorosamente pluralista. Secondo un lavoro di confronto teologico, terzo un lavoro di educazione all'accoglienza ma anche alla legalità, per dirli in altri termini, a incontrarsi e confrontarsi fra le varie culture, cioè agli amici e fratelli, ai fratelli e alle sorelle delle altre religioni, Noi offriamo rispetto, passione, ma chiediamo di accettare le regole del viver comune dell'Italia, in altri termini la legalità, un percorso quindi non semplice dall'una e dall'altra parte, ma indispensabile. Però devo dire che in Piemonte, dove questo funziona ormai da tre anni, i risultati sono addirittura superiori alle aspettative. C'è entusiasmo, costruzione, passione, accoglienza. Non parliamo neanche più di integrazione, ma di scambio reciproco, di interazione. Gian Piero Leo, questo dialogo che lei ha bene avviato potrebbe continuare cavalcando la predisposizione alle donne ad essere primi, ad avere la lungimiranza, la visione. Primavera Araba è nata grazie alle donne. Ecco, questo dialogo potrebbe continuare veicolato attraverso le donne? Beh, lei che mi intervista è una grandissima, intelligentissima donna, perché ha ragione. Anzi, mi ha aiutato a evitare una gaffa e una pecca. Le principali alfiere, le punte di diamante di questo dialogo, le più coraggiose, sono le donne. Che siano donne iraniane, donne algerine, donne egiziane, donne orientali, sono le donne. Da una parte perché comprendono meglio l'amore per la vita, ma dall'altra perché in quei paesi obiettivamente subiscono terribili discriminazioni. Quindi le sentinelle della libertà e le più desiderose di un cambiamento in senso di giustizia sono le donne. Le ha detto molto bene, le donne hanno difeso la rivoluzione in Tunisia, si sono posti ai passi indietro in Egitto. Quindi le donne sono le principali resistenti in Iran contro il regime fondamentalista. Quindi è indispensabile e devo dire che anche fra gli immigrati, sovente, lasciamo anche uno spazietto agli uomini, dico sovente per non dire sempre, ma sicuramente sovente le più pronte, le più coraggiose sono le giovani donne. Io le chiedo di chiudere con un augurio alla prossima edizione del premio Vis Juridica. E' un premio che dovrebbe essere raccolto da tutti i mass media, da tutte le televisioni, perché i talk show, ahimè nella stragrande maggioranza, c'è qualche eccezione con Nicola Porro e altri personaggi che cercano anche di dare del positivo e li ringrazio, ma i talk show parlano solo di scandali, di brutture, di vergogne che è giusto denunciare, ma che vanno bilanciate raccontando anche il positivo che c'è. Per me anche esperienza personale, sono stato chiamato diverse volte da grandi emittenti nazionali, anche da bravissimi giornalisti, ma volevano che si parlasse delle parti negative, scabrose. Quando si chiedeva di raccontare di esperienze positive, ci dicevano che queste non interessano. Allora, un mondo, una società civile, a cui si racconta solo la parte brutta della società, come fa ad evolvere, ad avere speranza per il futuro? Quindi a voi dieci volte grazie e l'auspicio è che capiscano i grandi mass media com'è importante per il bene comune un premio come questo.